Entriamo ora maggiormente nel dettaglio della componente principale del modello SLD25. Incominciamo dagli eventi di apprendimento. Abbiamo utilizzato l'espressione eventi di apprendimento perché costituiscono unità riconoscibili nel loro accadere nel tempo e nello spazio caratterizzate da una funzione specifica nel processo di apprendimento, visto, stiamo attenti, sempre dal punto di vista dello studente. Immaginiamo di non avere alcuna conoscenza di un contenuto ma che ci venga richiesto di diventare ragionevolmente esperti di un argomento per sostenere una discussione delicata o svolgere un compito. Come procediamo? abitualmente. Per prima cosa molti di noi iniziano raccogliendo i contenuti necessari. Possiamo assistere a una lezione, a un seminario, cercare dei libri, articoli, selezionare in rete dei video e magari anche dei corsi online come dei MOOC. Il processo di raccolta dei contenuti potrebbe svolgersi individualmente oppure con il supporto di docenti come in una lezione oppure in modo interattivo con altre persone, per esempio nel corso di un seminario, di un workshop, oppure con contenuti digitali interattivi. Pensiamo per esempio all'esplorazione di un ambiente di realtà virtuale. Abbiamo così già individuato due primi eventi di apprendimento che chiameremo raccolta di contenuti, che si può caratterizzare per bassa o alta interattività, in base al fatto che questo evento avvenga in una dinamica interattiva o meno con altri soggetti. Attenzione, parliamo di raccolta di contenuti, non acquisizione o apprendimento di contenuti, perché in questa fase gli elementi raccolti non riescono a diventare ancora delle vere e proprie conoscenze o abilità, cioè non sono nostri a un livello profondo, sono nostri a un livello superficiale, cioè diventeranno davvero parte di noi solo nelle fasi successive. Una volta raccolto il contenuto, di solito per facilitare la sua trasformazione in apprendimento reale, abbiamo bisogno di manipolarlo, di schematizzarlo, di sintetizzarlo, in modo che poi si possa integrare con le nostre conoscenze precedenti e poi abbiamo bisogno di applicarlo in più contesti, di approfondirlo, di comprendere la validità e anche la generalizzabilità. Emergono dunque nuovi momenti che supportano il processo di apprendimento. Quella che chiameremo rielaborazione dei contenuti e quello che facciamo quando riordiniamo gli appunti, realizziamo sintesi, schemi, ma anche semplicemente quando sottolineiamo un libro, si tratta di una manipolazione di contenuti. Poi abbiamo l'applicazione pratica di quanto appreso, oppure anche il suo approfondimento attraverso attività di produzione e ricerca, o l'esercizio del pensiero critico sull'argomento attraverso delle discussioni che possono essere guidate dai docenti oppure fra pari. Infine, per ottenere una comprensione più profonda e una memorizzazione, come si dice, a lungo termine, abbiamo bisogno di impegnarci in azioni di richiamo e riattivazione ripetuta delle conoscenze che vogliamo acquisire stabilmente, quella che si chiama la pratica del retrieval, del richiamo. Abbiamo a questo punto tutti gli elementi per stimolare il processo di riflessione e metacognizione sul percorso di apprendimento svolto. Rispondendo a domande quali risultati ho raggiunto, come posso migliorare il mio processo d'apprendimento? Abbiamo quindi incontrato otto eventi di apprendimento, ciascuno dei quali è rappresentato nel nostro metodo da una carta specifica. Raccolta di contenuti a bassa interattività, raccolta di contenuti ad alta interattività, rielaborazione dei contenuti, applicazione e esperienza pratica, produzione o ricerca, discussione, retrieval e riflessione e metacognizione. Ogni evento d'apprendimento può inoltre essere svolto attraverso differenti modalità e naturalmente è compito dei docenti, selezionarle nel modo più opportuno in base alle caratteristiche degli studenti, della disciplina o del contesto. Per facilitare la progettazione degli eventi di apprendimento vengono riportate sul retro di ciascuna carta diverse attività possibili. Per esempio la raccolta di contenuti a bassa interattività può attuarsi grazie all'ascolto di una lezione frontale, alla lettura di articoli e di libri, alla visione di video o di mucca, all'ascolto di un podcast, alla visione di esperimenti. Ciascun evento di apprendimento oltretutto può essere collocato nell'esperienza dello studente come un momento individuale oppure collaborativo, valutato o non valutato. Gli eventi di apprendimento che abbiamo descritto finora possono infine essere svolti con pesi e ordini differenti in base all'approccio pedagogico scelto. Se per esempio seguissimo il ciclo di Kolb, il punto di partenza potrebbe essere un'attività pratica che permetta l'immersione in un'esperienza per poi passare successivamente alla riflessione su cosa è stato osservato e alla esplorazione della dimensione teorica e poi la sua generalizzazione. Poi dovremmo attribuire a ciascuna di queste attività una durata e stabilire se si svolgerà in modo individuale, collaborativo, se sarà valutata o meno. Ma soprattutto dovremmo decidere dove si collocano in termini di spazio-tempo posizionandole in aula, online nella dimensione sincrona, online nella dimensione sincrona o nella modalità autonoma dello studente. Proseguendo con l'esempio precedente con il ciclo di Kolb, proviamo ad ipotizzare una piccola applicazione del metodo SLD. Se il risultato di apprendimento atteso di un credito formativo fosse ad esempio lo studente sarà in grado di riconoscere e descrivere i caratteri specifici dell'architettura romanica e gotica, potremmo partire con un'esperienza pratica, definirla come collaborativa e non valutata e posizionarla nella zona autonoma chiedendo agli studenti e alle studentesse di organizzarsi in gruppi per visitare un certo numero di edifici romanici e gotici del territorio facendo fotoosservazioni in un momento a loro scelta ma entro una certa data. Poi potremmo proporre un momento di riflessione, di discussione in aula collaborativo e non valutato che permetta anche agli studenti di conoscere quelli degli altri gruppi e di familiarizzare col docente e in questo modo di condividere le osservazioni che sono state fatte. Quindi potremmo inserire una raccolta di contenuti ad alta interattività da svolgere collaborativamente online e in modo asincrono. Come potrebbe avvenire? Magari richiedendo agli studenti di analizzare una serie di video sui quali è stata integrata una serie di attività di riflessioni che il docente ha predisposto magari facendosi supportare da uno strumento di annotazione collaborativa come annoto o feedback fruits. E poi potremmo concludere in classe o in aula virtuale sincrona secondo nel contesto specifico con un evento di raccolta di contenuti ad alta interattività. Una lezione guidata dal docente che introduca altri esempi storici diversamente caratterizzati invitando i studenti con domande e breve attività magari supportate da uno student response system a fare confronti, riconoscere le diversità e ipotizzarne le cause. A queste attività per assicurare il reale raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi dovremo probabilmente aggiungere un certo numero di ore di raccolta di contenuti a bassa interattività per esplorare ulteriori aspetti e per approfondirli fatta utilizzando un libro o un'ulteriore parte di un MOOC selezionata da docenti da svolgersi in modalità autonoma senza particolari attività e di riallaborazione dei contenuti svolte in piccoli gruppi in modo collaborativo magari online attraverso la redazione di mappe su Miro di sintesi collaborative e valutate. E infine avremo una parte invece di retrieval che posizioneremo sia nello studio autonomo dello studente, in questo caso magari anche senza usili, che alla fine della prima metà del corso con un'attività individuale svolta in aula non valutata, ad esempio un test con risposte chiuse e aperte di cui il docente commenterà i risultati con la classe in modo da dare l'opportunità a tutti di verificare il proprio stato di avanzamento. Vedete che in questo modo il nostro progetto del CFU dedicato all'architettura romanica e gotica è stato completato.